Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il Falcon 900X, con a bordo Filippo Turetta, ha effettuato il suo atterraggio a Venezia. L'aereo, partito regolarmente dall'aeroporto di Francoforte alle 10.45, ha toccato terra in anticipo rispetto all'orario previsto di arrivo alle 12.30, grazie al favore del vento, come riferito da fonti affidabili. Filippo Turetta, vestito con una tuta e scarpe da ginnastica, indossante un giubbotto blu e con una barba incolta, è apparso silenzioso e dimesso durante il volo, manifestando scarsa attenzione a ciò che accadeva intorno a lui. La sua presenza sul Falcon è stata scortata dagli uomini del servizio ship, incaricati del suo trasporto, evidenziando un clima di attenzione e sicurezza che circonda il caso. Dopo l'atterraggio, il 21enne sarà condotto agli uffici della polizia aeroportuale per la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente, accompagnato dai carabinieri, intraprenderà un viaggio di circa un'ora fino al carcere Montorio di Verona. Lì, sarà sottoposto a una serie di procedure, inclusa una visita all'infermeria per verificare le sue condizioni di salute. Le procedure burocratiche dell'ufficio matricole precederanno l'ingresso in una cella del reparto protetti, precauzione adottata per ragioni di sicurezza, considerando l'attenzione mediatica che circonda il caso. Il giovane sarà posto in isolamento con sorveglianza 24 ore su 24 per prevenire eventuali comportamenti autolesionistici, data la dimensione ridotta della cella. I primi a poterlo incontrare saranno i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Caruso ed Emanuele Compagno. Tuttavia, i genitori, Nicola ed Elisabetta, dovranno attendere l'autorizzazione prima di varcare l'ingresso della casa circondariale, verosimilmente dopo l'interrogatorio di garanzia previsto all'inizio della prossima settimana.